L'attività giudiziaria a Lecce rischia la paralisi. L'accorpamento delle sette sedi distaccate di Campi, Galatina, Tricase, Maglie, Casarano, Nardò e Gallipoli ha mandato in tilt gli uffici del Tribunale Civile e di quello penale. La classe forense ha proclamato due giorni di assenzione delle udienze per giovedì 17 e venerdì 18 ottobre per protestare contro la legge sulla nuova geografia giudiziaria disegnata dal vecchio governo. Aule insufficienti a contenere il personale amministrativo che in molti uffici è addirittura raddoppiato. Udienze affollatissime, disorganizzate, disfunzioni nelle cancellerie. Queste le problematiche con cui giornalmente avvocati, magistrati ed impiegati si scontrano. Per non parlare dei fascicoli provenienti dalle sedi provinciali e accatastati nei corridoi. Molti di quelli relativi alle esecuzioni immobiliari non risultano nemmeno registrati. Chiederemo che vengano se necessario trovati altri locali idonei o comunque che venga organizzato diversamente il lavoro per consentire di risolvere determinati problemi. Anche eventualmente una diversa distribuzione del personale che consenta di tenere conto delle varie esigenze del settore civile e del settore penale. Per due giorni dunque gli avvocati incrociano le braccia. Risultato, processi bloccati e udienze rinviate. 4.000 esecuzioni immobiliari sono sospese. Quello è un danno per il cittadino ben maggiore di quello che può essere il rinvio di un'udienza che è un male, un sacrificio necessario che noi giudiciamo necessario per sensibilizzare e cercare di portare a soluzione nel più breve tempo possibile queste situazioni.